ciao a tutti ragazzi vediamo questo prodotto che mi ha spedito e scopriamo insieme che cos'è la scatola è qua sotto la vera fibra di carbonio ragazzi sono le cover degli specchietti sono veramente fatte bene guardate la sua forma o fantastico che dire ragazzi io li andrei a installare subito andiamo dai ma cos'è sta merda minchia sporca cavolo sporca phantom sei sporchissima adesso ti puliamo apriamo l'adesione promoter che sarebbe praticamente il componente che fa aderire il biadesivo del coprispecchietto al alla scocca andiamo a togliere le strisce rosse tolte le strisce lo andiamo ad applicare ed ecco a voi ragazzi guardate che figata si sposa veramente bene ragazzi proprio bello ma veramente bello guardate che effetto che fa la macchina poi c'è mi rendete conto che figata anche su questo togliamo le strisce rosse e lo andiamo ad applicare ma come lo andiamo ad applicare praticamente noi da così lo andiamo a innestare giù 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 per tutta la calandra capito poi andiamo a pressare bene apposta apposta guardate che figata un prodotto di qualità di eccellenza per quello che costa direi proprio che di eccellenza bene ragazzi iscrivetevi al canale mi raccomando se il video vi è piaciuto mettete un bel like al video e il link ve lo metto sempre in descrizione se vi piace questo prodotto ciao ragazzi alla prossima ciao